Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, buona giornata. Ieri a questo grado si è parlato un po' del caso di Liliana Resinovic. Una sceneggiata impietosa come al solito, ma una cosa è venuta fuori e che io avevo anche sostenuto un po' di tempo fa, ma credo proprio che quel blocco del contatto dello Serpin sia stato probabilmente effettuato dalla stessa Liliana. Ma già il giorno prima, il giorno 13 di dicembre, a seguito di quella famosa lunga telefonata agitata, secondo me anche drammatica, secondo me è plausibile che alla fine Liliana abbia bloccato il contatto, tanto è vero che dopo, successivamente, lei fa una ricerca di come cancellare definitivamente i numeri bloccati sull'iPhone. e lo fa e quindi non ci sono più contatti per tutto il giorno 13 perché lei non solo lo blocca, ma poi cancella definitivamente i numeri bloccati. Però, così facendo, cosa succede? Che la mattina dopo, attenzione, siamo al 14, arriva il messaggio da questo numero non registrato, ma che lei riconosce perché c'è quel camp, camp, queste cose qui, no? E allora lei cosa fa? Richiama, fa quella famosa telefonata delle 8.22, secondo me, sempre molto asrabbiata. Perché? Perché in effetti, quel numero che lei aveva bloccato, poi cancellandolo definitivamente è come se non fosse più bloccato, non capirete questo. Allora, dopo quella telefonata, lei, probabilmente, lo blocca di nuovo perché si rende conto che se tu blocchi un numero e poi lo cancelli definitivamente, è normale che questo numero, quando fa di nuovo, diciamo, quando ti chiama di nuovo, oppure fa un messaggio, quello arriva. Quindi ecco che il blocco viene fatto probabilmente da Liliana sia il giorno 13 che quella mattina del giorno 14, perché sicuramente è successo, è successo qualcosa, qualcosa di clamoroso. Quindi ecco perché quando si dice alle 10.56 si attiva la segreteria, perché il numero probabilmente è un numero che attiva la segreteria perché era stata cancellata da Liliana. Quindi, però, però cosa succede a questo grado? Che in maniera ignobile, secondo il mio punto di vista, si dice che lei probabilmente, sì, può essere che l'abbia cancellata la stessa Liliana, ma non perché non voleva sapere che era successo qualcosa di tragico, no, perché lei l'aveva bloccato, forse perché voleva tenere nascosta questa storiella d'amore, ma allora perché non lo bloccava prima, ma molto prima. Quel suo bloccare, quello di Liliana probabilmente che l'ha bloccato il 13 e poi il 14, perché lei stava andando incontro al suo destino tragico, perché era successo qualcosa che riguardava poi il suo destino, quello che la conduceva alla morte, e quindi era qualcosa che riguardava quella mattina tragica. Ecco perché io insisto su altre piste che non sia la banalità, che non sia la banalità di una storia d'amore che non esiste, però purtroppo è ancora. Quindi, e invece lì nello studio, la Covalero, Sebastiano, questo processo mediatico, e quindi si dice chi ha bloccato, chi ha bloccato, lo dice la cugina Silvia. Insomma, è quello che mi conforta, ecco, che questa mia teoria finalmente trova, trova, spazio in alcuni opinionisti. Carmelo Abbate dice probabilmente è stata Liliana a cancellare il numero di Sterpina. Fatevene una ragione. Quella mattina Liliana comunque non era in casa e Sebastiano non è andata a casa. Quindi emerge, diciamo, in maniera un po' più ufficiale questo fatto che alla fine è molto probabile che sia stata la stessa Liliana a cancellare il numero di Sterpina sia il giorno 13 che il giorno 14. Perché, vi ripeto, il giorno 13 poi fece anche la ricerca di come cancellare definitivamente i numeri bloccati. Quindi questo è importante. E anche la signora Isusso che dice proprio questo che dice c'è il litigio secondo lei il litigio appunto della telefonata di 16 minuti del giorno 13 nella quale può essere scattato il blocco ed è così secondo me che è successo. Esattamente così Liliana di Suino che c'è a mio avviso dopo la telefonata drammatica di 16 minuti del giorno 13 blocca il contatto poi cerca come eliminarlo definitivamente e lo elimina così facendo però la mattina dopo le asiva il messaggio buongiorno queste cose qua lei è ancora inferocita per il suo destino di quella mattina per quella cosa che doveva fare molto pericolosa lo richiama secondo me dicendo chissà cosa per un minuto e 36 e lo si blocca questa secondo me è la verità questa secondo me probabilmente è la verità quindi e quindi è inutile è inutile insomma andare ancora invece di vedere queste altre piste che potrebbe essere la pista economica chissà cosa era capitato dove stesse andando chissà se non era stato messo in mezzo involontariamente qualche pasticcio invece no invece no lei si dice esce senza la fide senza perché senza la fide perché dite che esce senza la fide perché dite che esce senza la fide senza anelli senza collana senza nulla perché rimarcare la fide esce senza nulla lei era imprigionata fra due relazioni non c'era la seconda relazione non c'era è una vergogna è una pena andare ancora a dire imprigionata fra due relazioni ma guarda quale due relazioni non c'era la seconda relazione ecco allora allora ecco che giustamente bisogna fare lo show e allora ecco che fanno vedere un video di un'intervista fatta allo Serpina che durò oltre dieci minuti senza ovviamente alcune interruzioni tutto registrato in cui ah bene guardate che si dice che è stata pestata Liliana come è morta quindi oltre ad avere lo Serpina pubblico ministero ispettore anche adesso come anatomopatologo ecco e lui che ci fa la dottoressa Cattani lui sa tutto finiamola 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 con queste cose ancora doveva passare dalla Wind secondo me la Wind è un'invenzione perché non dimostrata e anzi smentita ufficialmente dalle impiegate per cui non è andata né Liliana né tantomeno lui non si è parlato della Wind quella mattina c'è stata una telefona alle 8 e 22 probabilmente molto drammatica anche quella seppur più veloce e dopodiché il contatto di Serpini viene bloccato altro che Wind e invece no si pone le domande si dà il microfono a Serpini perché lui deve parlare dell'alibi di Sebastiano c'ha l'alibi Sebastiano non ce l'ha l'alibi Sebastiano c'è l'alibi Sebastiano non ce l'ha l'alibi Sebastiano quindi allora lui lui che dice cioè invece di vedere anche l'alibi suo i suoi movimenti le sue contraddizioni quelle che ha fatto quelle che ha taciuto quelle che ha detto non ha detto quelle che ha detto appuntate quelle che ha detto prima quelle che ha detto l'opera le contraddizioni no lui dice lui dice Sebastiano lavati la coscienza e lo accusa in un modo vedete questa è la vergogna è la vergogna anche di Sebastiano che riceve delle accuse tremende senza dire niente che dice beh che fa che fa che fa che mi accusa quello lo accusa allora allora il lo serpino lo accusa dice lavati la coscienza perché ha ucciso tua moglie e vabbè ma cosa ha detto ha ucciso mia moglie vabbè vabbè allora dice tu hai ucciso tua moglie però non lo dici perché sei stata aiutata adutendo a qualche familiare suo così quindi è lui lui senza spina dorsale Sebastiano senza spina dorsale sta lì così assiso attonito inerbetito perché gli fa comodo gli fa comodo l'importante che sia schifo e quindi e poi l'accusa di omicidio continua ma come si fa dice lui l'ha uccisa l'ha uccisa e ha utilizzato la macchina quindi l'ha uccisa in macchina perché perché il giorno dopo lui fa una pulizia totale della macchina lui sa che la porta a lavare perché magari il sangue non so ecco allora vedete il fatto di non reagire adeguatamente a queste che sono accuse dirette specifiche non è che qui uno si rizzela perché uno viene chiamato sciocco credito no qui sono accuse dirette di omicidio e occultamento di cadavere e lui è senza dignità vedete io non vedo dignità purtroppo nel marito di Liliana che praticamente non dà nemmeno la dignità alla memoria di sua moglie perché lui doveva battere i pugni sul tavolo doveva andare via a queste parole allora la dignità per quanto costa la dignità quanto vale la dignità quanto vale quanto vale vedete spiccioli spiccioli questi qua spiccioli questi va questa è la dignità caro caro Sebastiano caro Sebastiano la dignità una volta si diceva 30 denari vedete questa è la dignità questi vedete questi poveri spiccioli qua vedete questa è la dignità di Liliana vedete così ma per carità questa è la venduta per i famosi 30 denari 30 denari come si legge nel Vangelo ecco e allora come fa come fa Sebastiano a rimanere lì ad ascoltare di essere accusato di aver ucciso la moglie quindi e tutta Italia sta ad ascoltare invece questo questo filmato questo video di oltre 10 minuti più o meno insomma di queste di queste cose di queste accuse è lì è lì lui e Sebastiano tanto sta lì sta in albergo a Milano poi magari domani quando vai in strada vieni riconosciuto si fanno le foto con lui è una vergogna a mio avviso quindi bisognava alzarsi bisognava alzarsi andare via ma è inutile poi ma io chissà poi quelli anziani poi chissà le cose le cose durano le cause durano ma allora ma come uno che ma giustamente uno che già è stato accusato direttamente di essere un malavidoso di aver fatto sesso infantile quindi io dico tu hai fatto sesso con i bambini e gli dici vabbè ma che sarà mai e non reagisci qualcosa non va non va quindi io credo che pur di non avere fastidi si seppellisce la dignità propria e della moglie perché perché altrimenti poi si dovrebbe indagare le piste a vista economica altre cose che non si sono indagate quindi adesso non si dice più serpini chissà quale quale cose segrete no no adesso no adesso si protesta si velatamente dice Nuzzi ma Gianluigi ma se io devo ascoltare queste cose però subito dopo dice si la storia d'amore perché lui si era impaguito la sua testa aveva equivocato che mia moglie andava da lui faceva le cose i servizi magari qualche qualche bacetto così e lui ha equivocato e quindi tutte tra l'alluccio e vino perché alla fine poi non è voluto l'imbuto emotivo l'imbuto emotivo tra l'alluccio e vino tra l'alluccio e vino e ecco e perché l'imbuto emotivo e sì perché poi c'è stato un fraintendimento perché lei non lo voleva bene così andava a casa sua così non c'è più adesso i dubbi che diceva a me Sebastiano e che vi ho fatto anche vedere di chissà qual'era la natura della loro frequentazione adesso non c'è più questi dubbi perché gli conviene l'imbuto emotivo così si archivia subito si archivia più presto perché non si deve indagare la pista economica perché cash si archivia se non le cose no è perché poi non si sa mai non si sa mai non si sa mai vabbè comunque lasciamo perdere e poi quando Carmela bate dice sostanzialmente ma si può pensare che ci fosse qualche altro uomo nella vita qualcuno che desse fastidio e che magari provocasse la gelosia di qualche donna perché è stato detto in puntata pure covalera ha detto perché non può essere stata una donna facendo qualche allusione Carmelo abbate intuisce e dice ma una donna perché forse aveva fastidio oppure qualche cosa con un altro uomo che poteva suscitare le gelosie di una donna e Sebastiano dice no 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 assolutamente no assolutamente no e anche in questo caso qui vedete vedete pochi spiccioli ecco pochi spiccioli la dignità eccola qua non è vero perché poi a me ha detto tante volte ma io l'ho riferito tante volte anche nei video che lui diceva che veniva Lilian si lamentava con lui che veniva infastidita sempre dal vicino salvo che lo incontrava per strada che si metteva a parlare gli faceva i complimenti e che lei non li voleva frequentare più per questo motivo quindi questa cosa qui lui l'ha detta non sarà vero vabbè ma adesso non la dice proprio più ci va quanto ma quanto mai ma mai mai ma l'ha detta l'ha detta adesso però vedete vedete questo vale la dignità queste qua quindi vedete c'è bisogno di coraggio nella vita quindi 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 meglio non percorso queste queste strade quindi quindi diciamo che possiamo anche chiudere qua e quando e quando Nuzzi dice ma possiamo possono essere piste alternative e nessuno fa no quale piste alternative volete non c'è vedete ma possibile mai che non si riesce a capire che una donna che esce in quelle condizioni eh anche anche Sebastiana qualcosa c'era nell'area non poteva non sapere però non si dice ma non pensate che lei dopo Piazzale Gioberti possa essere incappata in uno o più persone che chissà cosa volevano da lei poi poi comunque ci deve essere tutta un'organizzazione che non poteva essere banalmente ricondotta ai soliti noti questo non si dice poi la ex Piavo Pugliesi dice ma ma poi tutti questi si dice tutti questi messaggi fra i due che non si sono mai visti posso leggere questi messaggi per vedere i contenuti cara dottoressa Pugliesi i messaggi fra allora non sono chiaro non sono chiaro i messaggi fra Serpin e Liliana non ci sono non avete capito lo sto dicendo da due anni e mezzo i messaggi non ci sono non ci sono nemmeno quel messaggio in relax sul divano perché quando quando Liliana cancella il numero dello Serpin probabilmente allora qualcuno potrà dire ma come come asiva poi nel pomeriggio in relax pensare da domani perché non asiva dalla perizia dalla perizia non c'è questo messaggio ne è fatto vedere viene detto viene detto da lui ma non è stato fatto vedere da nessuno in relax pensando a domani lì in relax ne è stato solo detto ma non c'è questo messaggio non c'è questo messaggio e i messaggi in generale non ci sono lui ha fatto vedere dei screenshot alcuni campi campi cose estemporanei dalla perizia non c'è ci sono soltanto le mini mini telefonate quindi ecco questo volevo dire alla ex PM più chiesto poi con lo vati parla di 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 fantacrime quando si dice le percorse le co non esiste niente quali percorse anche il generale Garofano conferma nessuna percorsa nessuna percorsa ma ma si inventano questo perché perché devono ricostruire che questa donna poi viene presa da Sebastiano che insomma le fa violenza e poi chissà come la fa sparire non si riesce ad andare oltre poi Carmela Abate dice poi la macchina lavata un'altra stupitata perché le macchine lavate di cosa se c'è giustamente un elemento oggettivo è la macchina dove la macchina di Sebastiano è proprio la macchina di Sebastiano l'elemento oggettivo che viene sempre inquadrato e sta lì sotto le telecamere qui non può contenere nulla voglio dire al suo interno quindi quindi poi conclude Abate dicendo per il fantagrime questa cosa qui non va bene quindi si dica a Serpin che si inventi qualche altra cosa per il fantagrime quindi alla prossima puntata poi la chiossa finale con l'albergatrice che questa albergatrice poi esce dopo due anni e mezzo dicendo l'episodio qua la la valigia così buttata i letti separati allora dico io ma come come una cosa del genere cioè possibile mai una cosa del genere quando questi questi coniugi che hanno viaggiato centinaio e centinaio fra alberghe e b&b nessuno dice i letti separati solo lì i letti separati non sono credibili queste cose sono queste un po' forzate vedete quindi non vedo niente anche giustamente in 32 anni nessuno come dice Carmelo Abate ha detto mai di aver assistito a episodi di violenza eccetera eccetera quindi per carità la conclusione qual è molta amarezza mi ha suscitato questa puntata perché perché sono state detti i soliti luoghi comuni per carità però si assiste come dire sempre a curse sempre più feroce e dirette contro questo personaggio di Sebastiano che non solo non reagisce va bene dice va bene io mi voglio far calpessare e va bene però quando si dice l'amore l'amore e uno acconsente dicendo va bene però alla fine non ha ricambiato questo significa far perdere la dignità alla propria moglie perché lui sa benissimo che questo non è avvenuto e lo diceva l'ha detto i suoi dubbi no su Serpini chissà cosa cosa insomma è successo adesso no adesso banalmente la storiella di cui si è illuso si frequentavano però i bacini così che poi che fa ma poi alla fine forse lui si è illuso ecco questo è non avere ecco soprattutto nella memoria di Liliana non avere la dignità della memoria di Liliana una grande bella persona che meriterebbe di essere ricordata per il suo valore per la sua dignità per la sua moralità per il suo stile per il suo contegno per la sua riservatezza invece no qui è messa al pubblico ludibrio a un pubblico ludibrio e non è giusto a me a me a me dispiace ecco non esce fuori ecco nulla di buono da questa storia e non si è voluto e ormai ormai vedete non si è voluto andare andare oltre non si è voluto andare oltre purtroppo si nega qualsiasi altra pista si nega si nega tutto si nega tutto perché perché si è capito che si avvicinano le conclusioni dell'autopsia la morte risalirà all'inizio di gennaio sicuramente si dice e vabbè avrà sfogliato la mascherita si sarà andata a suicidare io sono convinto che non è così che la verità sta fuori da tutta questa fantasia però fa male ma veramente male pensare che a un certo punto nessuno difende la dignità di questa donna e anche chi sa che le cose sono andate diversamente invece si accontenta di dire così di dire così uno viene accusato del di cose ignobili anche di delitti e non fa niente va bene così quindi alla prossima puntata ecco alla prossima puntata ormai questa è diventata una sitcom comedy che però a volte le sitcom fanno pure sorridere qua c'è soltanto molta amarezza e questa sera Serpino ha detto le sue solite cose che gli hanno fatto dire ma non c'è affatto una bella figura soprattutto Sebastiano non c'è affatto una bella figura non c'è affatto una bella figura Sebastiano Vicentino non difendendo l'onore di Liriana non c'è affatto una bella figura no dispiace non c'è affatto una bella figura un abbraccio a tutti quanti voi